ciao io sono angela e sono qui per dirvi che ho acquistato il corso online del maestro andrea di ciglio è la prima volta che acquisto un corso online e ne sono rimasta veramente contenta perché è una persona molto semplice nello spiegare le cose e soprattutto anche per le persone che magari si vogliono divertire un poco ho deciso di anche se io conosco già un po il settore della pasticceria ho deciso di acquistare questo corso veramente perché molto lo ritengo molto pratico e spiegato molto bene cosa che non è da tutti molto semplice da capire nei minimi passaggi anche le cose un poco più complicate anche io che sono già del settore lavoro in una pasticceria di semi lavorati quindi conosco già bene o male le materie prime però nonostante tutto ho avuto voglia di informarmi ancora di più anche cose che magari possono sfuggire non tutti possiamo sapere ho trovato molto pratico anche la sua collezione di libri che scaricabili in pdf che comunque rimarranno sempre miei e questa è una cosa che mi piace e anche se ho preferito anche qualcuno magari acquistarlo perché è bello da tenere e quindi vorrei consigliare a tutti questo corso perché veramente io penso che si possa imparare con semplicità e anche per la soddisfazione magari di preparare qualcosa fatto con le proprie mani e anche qualcosa magari di difficile che qualcuno magari non si sarebbe mai azzardato a fare e soprattutto per la semplicità del maestro che ti risponde in qualsiasi momento anche avendo magari qualche dubbio ti risponde sempre partecipe e puoi fargli qualsiasi domanda che lui magari ti aiuta e quindi lo ritengo veramente un vero tesoro questo corso online che questo è il primo che faccio e non avrei mai pensato di farne uno perché a volte acquisti e non sai magari quello che ti puoi trovare voglio dire magari fai un acquisto e poi non ti soddisfa non è le tue voglio dire magari con dei passaggi difficili che uno magari poi ha paura di non potersi cimentare in queste cose invece per quanto riguarda il corso del maestro Giglio vi posso assicurare che è veramente una passeggiata e mi ritengo ancora ritengo che siano veramente soldi spesi bene perché mi piace mi piace e ne sono veramente contenta anche se ancora non ho finito di vederlo del tutto ma vi posso assicurare che lo ricomprerei quindi voglio fare questo questi ringraziamenti anche al maestro di Giglio che veramente ci dà questa possibilità di poterci come dire istruire e soprattutto anche divertire perché poi effettivamente la pasticceria anche divertimento per chi ha un po di passione io penso che sia una cosa molto bella niente con questo ringrazio tutti potete acquistare tranquillamente questo video perché non ve ne pentirete questo corso online scusatemi questo corso online potete acquistare tranquillamente e sono sicura che non ve ne pentirete perché sarà veramente come dire un bel tesoretto farà bene anche alla mente potessi divertire in queste in queste bellissime preparazioni molto semplici anche se un po elaborate ma spiegate semplicemente da poter realizzare io penso da qualsiasi persona quindi niente lo consiglio e buon corso a chiunque deciderà di acquistarlo e arrivederci